Grazie allora, breve comunicazione di servizio. Oggi, stasera, se il Manchester City dovesse vincere la Champions contro il Chelsea, cambierò foto del profilo e nome del canale. Metterò la foto dello stemma del Manchester City e il nome del canale. Comunque, ci devo ancora pensare, però comunque se il Manchester City dovesse vincere la Champions lo vedrete perché il Manchester City è la mia seconda squadra, l'Inter è la prima squadra e il Manchester City è la seconda squadra. Quindi se il Manchester City dovesse vincere la Champions commemorerò l'evento dedicando la foto profilo e il nome del canale. Lo terrò fino a quando lo voglio, quindi per circa un mese poi lo cambierò. Se il Manchester City invece dovesse perdere col Chelsea, terrò per un po' il mio nome frutta marcia, però poi lo cambierò comunque perché ho voglia di cambiare un po' il nome del canale. Quindi non ho più niente da dire, questa era la comunicazione. Ciao a tutti, ci vediamo stasera.